Noi siamo quelli che nel 2011 hanno presentato il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, siamo quelli che nel 2014 hanno promosso e sostenuto il referendum che ha visto il 71% dei pescaresi dire sì al progetto di fusione, siamo quelli che si propongono per cambiare Pescara. Io l'ho già detto e tengo a sottolinearla, queste saranno le ultime elezioni amministrative di Pescara, io spero di essere l'ultimo sindaco di Pescara, le prossime elezioni si faranno insieme a Montesilvano e a Spoltore, questo vorrà dire che non ci saranno più tre sindaci ma ce ne sarà uno, non ci saranno più tre giunte ma ce ne sarà una, non ci saranno più tre consigli comunali ma ce ne sarà uno, ci sarà un taglio massiccio ai costi della politica che svilupperà risparmi per oltre un milione e mezzo di euro l'anno. Insieme a questo ci saranno tutte le premialità dello Stato e della Regione previste a favore dei comuni che si fondono e soprattutto ci sarà una dimensione territoriale che finalmente ci consentirà di progettare lo sviluppo della città. Tanti volti nuovi, nelle sue liste è un solo consigliere comunale uscente, Massimiliano Di Pillo. Questo è il grande elemento di novità, io l'ho detto prima e lo sottolineo, io penso che uno dei problemi della politica sia proprio quella di non assicurare ricambio generazionale e professionale all'interno delle istituzioni. Ci sono molti candidati, un candidato sindaco in particolare che da 27 anni siede nei banchi del Consiglio Comunale. Tutto questo genera inevitabilmente incrostazioni, stanchezza, mancanza di visioni anche nella campagna elettorale. Io sento il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra a rinfacciarsi quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, quello che è stato fatto male negli ultimi anni. Io penso che i cittadini hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia e con serenità ed abbiano soprattutto bisogno di creare le condizioni perché possa determinarsi un cambio di classe dirigente. Se io diventerò sindaco, con me entreranno circa 25, 26, 27 persone completamente nuove in Consiglio Comunale ed in Giunta. Ed è questo, secondo me, il bisogno primario di una città che vuole cambiare e proiettarsi nel futuro.